Mi trovo in compagnia del professor Marcello Gallo. Ciao Marcello. L'occasione per cui si tiene questo colloquio è l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani, che si tiene a Brescia venerdì prossimo e sabato prossimo. Il titolo di questa manifestazione è l'appello irrinunciabile in difesa del doppio grado di giudizio. Ecco Marcello, come dice il titolo, l'appello irrinunciabile, tra virgolette, nel senso non tecnico, della rinuncia all'impugnazione. Certo, certo. Non si rinuncia all'istituto. Non è all'ordine del giorno di DL che è stato portato in Consiglio dei Ministri l'abolizione dell'appello, ma è un po' di tempo che da più parti qualcuno accenna la necessità di abolire l'appello. Vorrei sapere che cosa ne pensi tu di questa idea e se ti sembra conforme al nostro sistema. Allora, ti dirò Lorenzo che sono assolutamente spaventato, sono contrario a questa idea dell'eliminazione dell'appello. Il doppio grado di giurisdizione nel merito mi sembra non soltanto ragionevole, ma quasi indispensabile. Più occhi vedono meglio di due occhi o sei occhi o quelli che siano. Il controllo esercitato da una giurisdizione di grado superiore rispetto a quella che si è già pronunciata è uno dei tipi, delle forme di garanzia più funzionali e funzionanti che ci siano nel nostro sistema. Si rivela non una mera dichiarazione di principio, un proclama vuoto, ma una realtà effettiva. Basta per questo considerare quanti e quali siano i verdetti modificati dal giudice di appello. Il che vuol dire che c'è qualche cosa da rivedere nel giudizio di primo grado, che non è una critica al giudice di primo grado, ma è puramente e semplicemente la constatazione che immediatamente, a distanza relativamente breve da quella in cui si può iniziare l'esercizio dell'azione penale, il giudizio può essere, non dico corrotto, ma pervaso da una preoccupazione emotiva, da un senso di fare giustizia ad ogni costo che qualche volta porta poi a risultati che non sono da approvare. Risultati sui quali interviene giustamente e utilmente il giudice di appello. Ecco Marcello, tra gli argomenti che vengono sbandierati, tra chiamiamoli gli abolizionisti, per usare un termine sintetico, si dice che il nostro è un sistema accusatorio, nei sistemi accusatori l'appello non esiste, esiste solo la possibilità di ricorrere alla Corte Suprema dopo il giudizio di primo grado. È un argomento che si può condividere? Direi che è un argomento fallace come sono tutti quelli che si basano su comparazioni assolutamente inesante e inappropriate. E dire che il nostro è un processo di stampo accusatorio e su questa premessa derivarne la conclusione che occorrerebbe adottare sistemi come quelli per esempio che sono in vigore negli Stati Uniti, in certi stati degli Stati Uniti o nel Regno Unito, è veramente frutto di un travisamento di una situazione reale. Perché? Perché noi confondiamo il nostro procedimento, qualificandolo di tipo accusatorio, con quello statunitense ad esempio, che è un giudizio tutto fondato sulla giuria. Cioè il fatto è deciso da cittadini che sono chiamati a svolgere la funzione di giurato. E allora ecco che ha veramente un senso la comunità che prende posizione nei confronti di un determinato soggetto imputato di un fatto di reato e una volta che la comunità nel suo intero e attraverso la giuria si è pronunciata, si può addivenire ad un grado successivo ulteriore di giudizio solo in caso di conclamato errore di diritto. errore di diritto. Da noi le cose stanno in modo profondamente diverso. Noi abbiamo un procedimento accusatorio in cui una parte l'accusa è un magistrato di carriera solitamente o perlomeno viene funzionalmente equiparato quanto ha condotta e modo di agire al magistrato di carriera, che si trova davanti un giudice che tutto sommato nei suoi confronti è terzo fino a un certo punto. E questo malgrado che la carta costituzionale esiga non solo l'imparzialità ma anche la terzietà del giudice. Ora, in un sistema in cui il giudice è un magistrato posto sullo stesso piano, lo stesso livello, prodotto da un medesimo concorso rispetto a quello che solitamente sostiene l'accusa, parlare di sistema accusatorio significa adottare nozioni e argomenti abbastanza approssimativi. Hai toccato un punto fondamentale, tra l'altro è un caposaldo dell'impegno dell'Unione delle Camere Penali, quello di reclamare la cosiddetta separazione delle carriere. E condivido assolutamente anche questa pessima abitudine, consentimi di essere io a usare questo aggettivo, di fare della cattiva comparazione. Perché spesso, penso anche a quando si parla di prescrizione o comunque ad altri istituti, si fa appunto una comparazione che non tiene conto delle profonde di... Un altro argomento, Marcello, che mi sembra importante e su cui volevo sentire la tua opinione. Quanto incide, secondo te, sulla opportunità di mantenere e difendere il doppio grado di giurisdizione nel merito, il fatto che ormai la gran parte dei giudizi di primo grado si svolgano davanti a un giudice solo, davanti al giudice monocratico. Ecco, questo volevo sapere da te. Incide molto, nel senso che rende ancora più sana la presenza di un giudice di merito di secondo grado. Sana e opportuna, perché se il giudice monocratico sarà, ed è di solito così, bravo, attento, scrupoloso nella ricostruzione del fatto, colmo di sapienza, saggezza giuridica. Però è uno. E a mio avviso il giudizio è veramente completo e tale quando è compiuto da un collegio. Collegio che non dovrebbe... Ecco, qui mi permetto di esprimere qualche cosa di molto personale. non dovrebbe mai andare oltre le tre persone. E' il vecchio concetto romano che il collegio ideale è formato da tre individui. Tre individui. Certo. Quindi, stando così le cose, e stante la grande moltitudine di processi, anche di notevole importanza, celebranti davanti al giudice monocratico, l'appello si rivela, non dico indispensabile, ma quanto mai opportuno e appropriato. Mi permetto di aggiungere a questo tuo ragionamento che condivido in pieno, che tra l'altro, spesso in casi, dipende poi dai distretti, dalle circoscrizioni giudiziarie, ma che spesso questo giudice monocratico di primo grado è anche un magistrato onorario. E questo è un argomento ulteriore che mi pare si possa portare a difesa dell'appello. Ecco, ho introdotto questo argomento perché, come hai visto, nel DDL che è andato per approvazione in Consiglio dei Ministri, si prevede che l'impugnazione di merito, l'appello, insomma, contro le sentenze del giudice monocratico, venga poi deciso da una corte d'appello monocratica. Mi hai già risposto implicitamente prima, però vorrei che tu ti pronunciassi proprio esplicitamente su questo punto. Prima di tutto qui raddoppiamo gli inconvenienti sui quali mi sono già pronunciato, di cui ho già detto, a proposito del giudice unico. Con tutto il rispetto, bravissimo, però è uno, uno soltanto. E poi mi viene da dire, mi viene da aggiungere che già questo sacrificio in nome a volte di un efficientismo più che dell'efficienza, della collegialità in primo grado, che abbiamo patito dal 1999 in poi, insomma, dall'introduzione del giudice monocratico, ha in qualche modo diminuito quella che forse è una delle garanzie più forti, no? In fondo la collegialità, i più soggetti. Quindi è una garanzia che se venisse diminuita anche in appello sarebbe veramente una perdita ulteriore. Io mi sentirei di dire che dovunque si tratta di un giudizio e di un giudizio che incide profondamente su destini umani, la collegialità si impone. Ecco, è una garanzia non soltanto per il soggetto che viene a subire gli effetti dell'esercizio del potere giudizionale e del potere giudiziario, ma è una garanzia anche nei confronti dell'organo giudicante, il quale sa che la sua presa di posizione, la visione che gli altri una determinata rex fati o di diritto è controllata, appoggiata o corretta dall'opinione di altri soggetti. Toccherei un altro punto prima di concludere questa chiacchierata. È un punto anch'esso non previsto dal DDL, ma di cui si parla con maggiore insistenza ancora che dell'abolizione nuda e cruda del doppio grado di giurisdizione di merito. Mi riferisco alla posizione di coloro che per scoraggiare le impugnazioni in appello propongono di eliminare il divieto di riforma in peggio che come sappiamo il codice prevede, non solo questo codice ma anche quello precedente. Vorrei che tu esprimessi la tua opinione su questa idea di abolire questo divieto di riformare in peggio una sentenza impugnata dall'imputato. Anche qui mi trovo supposizione che sarà sicuramente qualificata come tipicamente conservatrice, ma è così. Ritengo che il divieto di riformazio in peggio sia quanto mai opportuno perché rappresenta un incoraggiamento che è fatto a chi vuol far valere il proprio diritto. Ci sono sicuramente degli inconvenienti negli effetti che questo divieto può cagionare rispetto alla decisione di una determinata situazione fattuale o giuridica, ma sono degli inconvenienti facilmente eliminabili, solo che ci si ricordi di una cosa, che il divieto di riformazio in peggio vale solo quando è l'imputato che unico appella contro una determinata decisione. Mi fa piacere a questo proposito ricordare come il pensiero di un maestro del diritto penale come Francesco Carrara coincidesse proprio totalmente con quello che tu hai appena detto. Mi piace proprio leggere un passaggio in cui lui si pronunciava su questo punto. Col divieto di riforma in peggio, diceva, si è voluto rendere omaggio al sommo principio di umanità che vuole, non si ritorca al danno del giudicabile, un rimedio che la legge gli posse per favorirlo. Cioè l'idea è proprio quella che il rimedio dell'appello è un favorei sostanzialmente. E quindi giustamente Carrara diceva come prima gli diamo questa possibilità e poi gliela togliamo. E quindi possiamo dire che l'appello deve vivere, l'appello deve continuare ad esistere, si possono certamente perfezionare certi meccanismi, ma mi pare giusta e sacrosanta la battaglia che l'Unione sta facendo. Ti lascerei proprio le ultime parole per un saluto a tutti i colleghi che sono qui convenuti per questa inaugurazione bresciana dei penalisti italiani. Io sono con tutti voi, amici miei, assolutamente d'accordo e impegnato in una serie di questioni che mi occupano da quasi 40 anni. A cominciare dalla separazione delle carriere fino all'appello, fino alla prescrizione. Possiamo quindi contare sul tuo sostegno e sul tuo impegno anche per il futuro. Questo è l'augurio che faccio a te e che faccio a tutti i penalisti italiani. Spero che la mia età mi riserva. Grazie Marcello, grazie. Grazie a te Lorenzo. Grazie.